...signalazioni sul sito evasori.info, una sorta di sito in cui si possono fare segnalazioni anonime, quasi una delazione, quel commerciante non mi ha dato lo scontri, eccetera, insomma, prendendo questi dati si arriva alla ragguardevole cifra di 631.000 euro. E sempre il tema di evasione, a Como hanno fatto dei conti.